Quasi sei minuti di gioco, 0-0 al Wankdorf Stadium, Young Boys Inter. Ora Young Boys controlla e finora ha pressato alto l'Inter, quindi provando a spegnere la possibilità di comandare, di prendere il pallino in mano del gioco ai nerazzurri, oggi abbiamo detto in divisa bianca, Inter in questi primi minuti ancora non riesce a imprimere il suo volto sulla partita. Vediamo se ora alza un po' i ritmi, c'è Young Boys che manovra, spinto anche dall'entusiasmo del pubblico, ripeto per queste squadre sono comunque feste queste partite, con Aston Villa, con Barcellona e Inter, il risultato può essere solo qualcosa in più, anche se le italiane non è che hanno proprio una grande tradizione qui, sei anni fa ci perse anche la Juventus, questo campo insintetico di cui tanto si è discusso, bisogna anche abituarsi. L'Inter in Svizzera ha vinto una volta con il Neuschatel, parliamo però del 97-98, grande rovesciata di Moriero, e poi solo pareggi con Sangallo, Lugano, addirittura in quel caso un'eliminazione. Lugano avete perso se non sbaglio. È mai perso perché sono tre pareggi con il Basile all'altro. Infatti da lì Lugano addio. È vero, è vero, Lugano perso in casa. È abbastanza vecchio da ricordarmi. Ovviamente stavo andando un po' ai numeri perché non stava succedendo niente in campo, ora un palo laterale guadagnato dagli uomini di Inzaghi, ma nella metà campo dell'Inter. Inzaghi prima richiamava a gran voce un intervento dell'arbitro per un calcio d'angolo che abbiamo visto però non c'era, l'unica volta che l'Inter è andata pericolosamente in aria con Dumfries, che però poi ha avuto il rimpallo a sfavore. Inquadrata tutta la panchina, tanta qualità nella panchina dell'Inter, ma anche Berenbruch e Aydoux, due giovani aggregati. Attenzione a Mkhitaryan, per Taremi corto il passaggio, era una buona idea del treno armeno che però viene fermato dalla difesa dello Young Boys. Oggi c'è Lauper, a fianco a Benito il capitano. Lauper è un centrocampista che oggi viene inserito in difesa perché c'è qualche defezione anche per lo Young Boys in difesa, non a centrocampo e quindi opta per Lauper in difesa, uno degli elementi più esperti della formazione di Magnin. Va bene, facciamo un piccolo insert e poi dopo ovviamente seguiamo tutte le azioni, facciamo così, entriamo, usciamo, entriamo, usciamo. È chiaro che è presto, no? A parte che ho apprezzo molto linguisticamente il treno armeno, questa è la prima volta che lo sento. A me sembra una litorina. Non è tecnicamente una rima ma un'allitterazione. Però il treno armeno non è male. È ancora un grande calciatore, dai, fa qualche errorino. Senti, Fulio, ci sono pochi minuti, ma la prima sensazione qual è? Petro, è una partita da vincere, da stravincere, anche perché veramente questo Young Boys, finora dimostrava... Fulio, che perde palla a Dumfries e quindi pericolosamente in avanti lo Young Boys, ci pensa Pavard a metterci una gamba a fermare l'azione dello Young Boys e ora può ripartire in contropiede l'Inter ancora con Mkhitaryan che allarga a destra per Arnautovic. Un po' forza è troppo forte questo passaggio. Si deve arrargare l'Austriaco che ora punta l'uomo ad andare in area di rigore con Dumfries che alza la testa, può crossare, lo fa respinto il tentativo di Dumfries e quindi spazza via lontano la difesa dello Young Boys. Palla che resta però davanti all'area con lo Young Boys che però è in possesso ma bene l'Inter solo a tre quarti recupera palla con Capitan Barella oggi la fascia è sul suo braccio perché Lautaro in panchina lui è il vicecapitano Barella che gioca al posto di Cialanoglu praticamente. Lo Young Boys al limite dell'area ancora gli svizzeri ma molto bene frattesi a recuperare palla ma di nuovo in modo falloso secondo Michael Oliver l'arbitro inglese è la corona di questa punizione sento Luciano e poi andiamo andiamo in pubblicità vai stiamo perdendo Borrelli punizione al limite dell'area e protesta un po' tutta l'Inter soprattutto nella figura del suo capitano e in effetti un piccolo step on foot ormai va di moda di frattesi sull'auper ancora l'auper in avanti centrocampista aggiunto punizione per lo Young Boys è la seconda vicino all'area prima da sinistra adesso centralmente quindi Sommer ha il suo bel da fare per mettere bene la barriera a coprire il primo palo con De Vrij che chiama i compagni un po' a coprire questo primo palo sta facendo un'ottima partita a Jam questo terzino algerino classe 2003 ora sul pallone Imeri il numero 10 dello Young Boys che si sistema il pallone c'è solo lui quindi la batterà lui leggermente spostato sulla sinistra posizione pericolosa proverà forse a scavalcare la barriera il tiro di Imeri che va proprio sulla barriera vuole un fallo di mano che però non c'è ma ancora Young Boys che attacca sempre con a Jam l'algerino il cross pericolo il colpo di testa e Pavarri scivolata davanti a Sommer salva tutto in calcio d'angolo ancora pericoloso lo Young Boys ora sta soffrendo l'Inter Pavarri e Sommer richiamano i compagni a essere più sugli uomini anche sulle palle inattive qui Carlos Augusto si è perso completamente Virginius che è andato di testa a piazzare questo pallone Sommer forse l'avrebbe presa ma Pavar iscivolata anticipato anche il suo portiere inquadrato in tribuna i dirigenti dello Young Boys che ora battono questo calcio d'angolo non loro palla al centro De Vrij di testa ancora Barella palla che rimane lì Bisse che prova a spazzarla bisogna allontanarla Dumfries non ci riesce ancora Young Boys e poi Sommer fortunatamente è successo di tutto in senso negativo per l'Inter ha solo non preso gol per il resto Borrelli che è successo non ha preso gol ma ha rischiato ha rischiato pensate che i numeri dicono al momento nove tiri verso la porta uno nello specchio Sommer è stato bravo in quella circostanza poi altri quattro tiri fuori quattro tiri deviati respinti in calcio d'angolo ma finora quasi solo Young Boys si gioca nella metà campo dell'Inter che non ha trovato attenzione ora proprio allo Young Boys il tiro alto ancora pericolo pericolo con Monteiro che si inserisce centralmente dall'esterno e poi chiede una deviazione per un calcio d'angolo possibile rivediamo forse Dumfries la spiora dice di no sia lui che Sommer vediamo l'arbitro se dà la rimessa forse sì molto bravo questo Monteiro questo stop a seguire poi in caduta tira lui fuori quindi dovrebbe no è calcio d'angolo quindi Dumfries l'ha deviata ancora calcio d'angolo e lo Young Boys inizia a crederci perché vede un po' come dicevamo ieri lo Stoccarda ma può essere anche meno forte ma se poi vedi che la serata è quella buona Sommer con i pugni deve allontanare respinge l'Inter che dicevo non ha trovato ancora le misure non so adesso se il campo il rimbalzo del pallone i tanti uomini cambiati ma male male questa prima mezz'ora ancora ora punizione per lo Young Boys da sinistra Ajam l'Algerino che come vi dicevo nel collegamento precedente è scatenato ancora una volta salta l'uomo con abbastanza facilità è costretto al fallo Barella punizione anche un brutto fallo vediamo la punizione poi torniamo qui in studio e discutere due fasi punizione per i giovani ragazzi Young Boys Forever Young il loro motto al Van Dorf Stadium gremito dicevo 32.000 presenze vogliono provare a mettere la loro firma su questa nuova Champions la League Face la fase a girone unico con alcune sorprese che già abbiamo visto in queste tre giornate speriamo non stasera sorpresa ancora punizione da sinistra tutti a saltare in mezzo all'aria attenzione colpo di testa di Taremi che va aiutare i suoi anche in fase difensiva molto generoso l'iraniano che deve fare di più il centrocampista e il difensore finora che non l'attaccante ma ancora Young Boys recupera palla l'Inter stavolta non in modo falloso con Frattesi poi Barella si distende sulla destra con Arnautovic e Frattesi ancora la squadra di Inzaghi Dumfries Frattesi un po' corto il passaggio e poi pallo laterale Luciano te l'aspettavi che si arrivasse alla mezz'ora sullo 0-0 con un Young Boys così intraprendente no assolutamente ma vedi il problema del calcio italiano in questo momento è un po' ribasso è un po' ribasso perché le società di calcio che combattono con i nostri ma anche i maggiori attenzione non hanno più il senso reverenziale di dire noi stiamo di fronte a una grande squadra per cui dobbiamo difendere se no fanno la partita fanno la partita è quello che è successo ieri a Torino a Torino non era mai successo che lo Stoccarda che è decimo in classifica che è basso diciamo medio no è decimo in classifica ha subito 4 gol la domenica precedente in campionato è venuto a Torino a fare la partita ed è venuto a Torino ed è venuto a Torino a prendere possesso palla perché ha fatto più possesso palla lo Stoccarda della Juventus e questo significa che non c'è più paura dell'avversario evidentemente e qui devo tornare sull'argomento della partita con l'Ipsia evidentemente quelli dello Stoccarda hanno l'idea mia attenzione l'Inter in avanti con Bissek il tiro alla parata di Von Balmos Inter che finalmente batte un colpo un'occasione clamorosa per Bissek che si rammarica buono l'inserimento del difensore tedesco bello anche il passaggio in diagonale a metterlo solo davanti al portiere che è stato molto bravo Carlos Augusto per il colpo di tacco ancora di un sontuoso Taremi tra i migliori dell'Inter o forse i meno peggio decidete voi poi Bissek qua se l'è proprio mangiato anche se con il piede sinistro grande la parata di Von Balmos Inter che poteva all'improvviso portarsi in vantaggio così non è stato sempre 0-0 Michele però ti pregherete una cosa quando succedono queste cose non fare questo grido mi ha fatto prendere la mezza accidente crediamo fosse successo qualcosa a qualcuno devo dire in parte ha ragione perché noi parliamo sopra noi facciamo una cronaca mista che non c'è in natura che è una specie di uno che parla con c'è comunque alla palla veloce arriva c'è un'occasione e noi stiamo facendo ragionamento lui urla per dire no 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 ma ha fatto paura perché è venuto fuori con il mezzo capisci ecco allora il discorso ormai non c'è più il fatto reverenziale di incontrare una squadra italiana perché si viene tranquillamente a fare una partita per vincere la partita ma dice quello che è successo all'Ipsia no è quello che è successo stavo dicendo quello che è successo all'Ipsia è stato uno studio accurato evidentemente dei dirigenti dello Stoccata ma sai perché perché noi che abbiamo proclamato grande impresa quella della Juventus la Juventus ha vinto perché ci hanno cacciato il portiere e siccome i tedeschi tatticamente non sono il non prus ultra sono andati in dieci ad attaccare la Juventus hanno preso il gol del contropiede e hanno perso la partita però è chiaro che praticamente hanno fatto almeno sul piano caratteriale una buona partita tant'è che voi non so se avete sentito Tiago Motta prima della partita ha detto voglio una prova come quella di Lips però siamo già oltre quindi forse almeno un minuto lo darà infatti un minuto di recupero con la palla dell'Oriar Boy che mancano 40 secondi dai finisci questo te la tira a te devo andare al bagno e questo non ti ma forse andava a 5 minuti di recupero era peggio ma prima di andare in bagno deve fare up and down gli up and down perché qualche cosa buona da sottolineare in questo primo tempo in qualche singolo c'è anche cose negative però le abbiamo dette e sottolineate e quindi le diremo a fine primo tempo prima lo Young Boys che finisce in attacco negli ultimi 20 secondi di questo primo tempo riparte l'Inter e sbaglia ancora Jam bisogna puntare gli ammoniti dello Young Boys ma la teniamo palla troppo poco gliela rivegaliamo e allora il cross da destra pericolo Sommer si salva palla invitante per il gigante Gamvulà che se lo mangia stavolta non marcato bene finisce proprio con questo spavento il primo tempo 0 a 0 Gamvulà ci ripensa il cross da destra di Virginius non ci arriva non ci arriva Gamvulà e Sommer la può prendere il cross era di Montero che stavolta era andato a destra di solito era partito a sinistra Sommer anticipa Gamvulà Pavard però non era così distante 0 a 0 mentre prepari gli appendati li ha messo a posto Luciano al mini format se no qui per fare gli appendati ho io a 40 minuti mentre li fa tutti parlano lui li fa li scrive e poi non li commentiamo così dura meno poi tu li fai e poi tu vai in bagno e non li commentiamo Natura Premit si diceva una volta sì sì allora prima mentre lui li scrive Natura Premit vabbè possiamo fare non è che possiamo fare una buttata sulla prostata non è che lo chiamiamo a meglio un programma calcistico se no veramente cambiamo genere già una volta ci abbiamo rischiato di fare un programma sulle parti basse perché c'erano i tifosi da Roma che insultavano non so ti ricordi quando è arrivato Iuri c'è cosa che aveva detto il cronista di Roma diceva è una questione uterina della greca che ha fatto alziamo un po' perché sennò allora guarda lì c'è da discutere parecchio sai che cos'è quello è il malessere delle società di calcio che non capiscono fanno una squadra per un allenatore poi ne prendono un altro con caratteristiche di calcio cosa curiosa di quel giorno adesso io ho già litigato con i tifosi tu non lo sai io ho già litigato i tifosi con la Roma non qui ma ero ospite un programma ho detto che non capivo l'entusiasmo su Lega andare all'aeroporto come Maradona e sono stato criticato ho chiesto scusa abbiamo fatto pace poi mia moglie mi ha fatto vedere quello che hanno detto mi sono arrabbiato vorrei non fare più pace però per evitare di farla troppo lunga l'abbiamo chiusa lì ma quando arriva Iuri nel giorno in cui hanno la nostalgia di De Rossi dicono a Iuri vai lì e rompi non si è capito bene no? sì c'erano delle escursioni però noi l'abbiamo andata in onda perché io per la cronaca dai facciamo un giro cominciamo da te che partita è stata primo tempo voto per le squadre più o meno Inter deludente se no? no l'Inter non è stata deludente diciamo che è stato bravo Young Boys a cercare di fare la partita l'Inter ha fatto secondo me la sua partita in attesa ha provato in contropiede a fare gol di fatto però deve vincere stasera Furio tre punti devi fare anche perché lo Young Boys ha fatto ha fatto il punta al campionato non alla Champions 5 all'Inter 6 all'Young Boys i miei voti 5 all'Inter 6 all'Young Boys Mariana? io credo che l'Inter abbia aspettato abbia temporeggiato un po' troppo prima di mettersi in luce con i passaggi a cui siamo abituati ecco quindi la velocità che citavamo prima comunque sulle fasce il fatto di avere anche il controllo della palla perché una grande caratteristica dell'Inter è anche quella di gestire il pallone e gestire la partita secondo me ha aspettato un po' troppo il gol doveva già arrivare da parte della formazione di Inzaghi però comunque stiamo assistendo a una partita tutt'altro che scontata quindi Luciano come sono questa nuova generazione di giornalista e donne anche a Bordogampo tutte precise sul calcio non esageriamo noi siamo metafolici non sono precise ha detto in una certa qual maniera quello che si sta verificando perché è la prima volta che siamo insieme quindi non posso sembrare scorrida la caratteristica delle squadre italiane viene fuori qua sapete perché l'Inter gioca non perde perché domenica c'è la partita con la Juventus e giocando non perde va di contropiede va di contropiede praticamente rischia anche di fare gol perché in questo momento io non ho visto una squadra che ha preso in mano il centrocampo ho visto una squadra che gioca di rimessa e però Luciano se l'Inter non vince questa partita perde dei punti che magari ho capito ma la partita non è obbligo che la Tapa vinci c'è anche l'avversario perché già loro hanno perso due volte sono perfettamente d'accordo i prossimi possono vincere e l'Inter si trova senza due punti sono perfettamente d'accordo ma il volere nel campo del calcio non conta con il pallone però adesso magari la differenza è evidente però vi dico adesso sentiamo gli up and down di Bolleri quello è importante se vediamo un po' se così le comunichiamo anche alla grafica gliel'hai già detto è preso tempo si si è già tutto fatto tutto fatto perché mi ho dato i corsi in mano dai vediamoli dai basta questi scherzi stasera sbraghiamo vai allora Taremi come dicevo già in cronaca non ha segnato è vero però si è speso tanto per la squadra in avanti si è fatto sentire con quel colpo di tacco molto bello ecco fermati un attimo Michele guardate i voti giusti attenzione trovate un centrocampista lì no no ma la verità sai qual è è la partita che viene fatta in contropiede da una squadra che praticamente vuol vincere con il minimo sforzo questa è la verità tenendo conto che Young Boys è sicuramente una squadra molto inferiore finisci dai fatelo finire dai dicevo premio Taremi sia perché in avanti ha creato questa palla goal anche con un gesto tecnico forse il più bel gesto tecnico di tutta la partita di questo primo tempo e in difesa ha aiutato i compagni ma ha fatto anche il centrocampista da raccordo quindi comunque una partita completa 7 Dumfries che è vero ha fatto anche degli errori però in difesa ha fatto valere la sua fisicità e davanti quando l'Inter è una seconda metà del primo tempo è ripartita è ripartita sempre a destra mai a sinistra quindi commento contemporaneamente il 5 e mezzo di Carlos Augusto perché non si è giocato da quella parte Pavard 6 e mezzo proprio perché la destra ha funzionato di più oggi Pavard molto più attento delle prestazioni in cui l'avevo criticato quelle scorse Arnautovic non ha dato una mano a far salire la squadra quindi insufficiente Mkhitaryan mi aspetto di più perché con la sua intelligenza tattica deve aiutare il centrocampo a prendere in mano il pallino del gioco tu ci lasci queste cose mettiamo grafica a schermo pieno sentiamo gli altri opinionisti della serata adesso lei ce l'ha con me perché si è arrabbiata perché ricominciamo da Elena hai detto una cosa carina insomma non ho detto una cosa 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 una generazione molto corretti insomma sento anche dei tuoi colleghi a Bordogampo c'è totte vestite insomma con la pantera con la cona di pantera che però dicono delle cose tattiche molto che io sono ammirato ma anche io sembra che l'abbiano letta da qualche parte sono molto ammirato non ci trucco non ci inganno però Elena esatto dai 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 da un complimento a un incidente ecco vai io negli app aggiungerei Bissec visto che ne abbiamo parlato un po' negativamente a ridizione trasmissione in realtà mi è piaciuto come ha giocato per due volte è riuscito a creare un po' di confusione in area quindi aggiungerei almeno un 6 e mezzo la vera notizia è è riuscire a fare up and down su Young Boys Inter questa è la verità però non bisogna essere bravi sì Michele Michele secondo me Taremi è stato 7 più che altro per quello che fa io voglio proporre una riforma per come ha lavorato per come ha lavorato per la squadra gli attaccanti adesso Furio devono guardare più aggiustare per se stessi e per i compagni e i buoni attaccanti se ne hanno anche gol io ho già proposto di fare 2-2 3-3 è lunghissimo quindi già fare 3-3 su una partita così tra virgolette nel complesso ti piace questa nuova formula della Champions sì o no? a me è tantissimo tutti contro tutti infatti trovi risultati 9-1 9-2 ma che tutti contro tutti ma lo Stoccarda c'è mai stato in Coppa di Campioni il Latina Mozza Capri ma non sono all'altezza non sono all'altezza Mariana è un passo in avanti è un passo indietro è uno spettacolo nella passione del torneo a me personalmente non piace io sono d'accordo con quello che diceva Elena prima nel senso lo Stoccarda sì va bene ha dato spettacolo perché personalmente ieri ma per debolezza dell'avversario se guardi lo Stoccarda nelle precedenti partite 4 dal Bayern ma lascia stare anche le precedenti non dai più questo voto così eccelso allo Stoccarda ma lo devi scusa voglio sapere da Mariana perché non ti piace qual è? perché è stata fatta per fare più partite più spettacolo più partite più spettacolo però perde un po' il valore delle prime in classifica cioè le prime in classifica vuol dire il top a mio avviso questo è un po' per rientrare e qui Claudio scusa e qui c'è Claudio una cosa che non funziona sai qual è? sì praticamente quando tu fai più partite so più diritti televisivi e i diritti televisivi praticamente vanno alle società di calcio raramente vanno ai giocatori guarda adesso cosa dicono i giocatori è un problema adesso perché le partite sono aumentate e gli stipendi sono sempre quelli e allora tu vai a cercare praticamente il dipendente che prende 6 milioni e dici ma come fa a essere dipendente? Luciano ma da resto io non sono mai stato un moralista del mondo del calcio però non è che non è che devono essere difesi da Landini bel salario minimo giocatori sono fuori dal mondo sono fuori dalle regole delle persone normali ma sai che loro hanno hanno fatto una lotta per diventare dipendenti è un'anomalia questa qui e sono diventati dipendenti hanno il parametro zero adesso hanno anche la voglia di portare avanti discorsi diversi che possono migliorare migliorativi solo per loro e noi praticamente che andiamo a vedere le partite e poi dicono che le società di calcio sono in deficit sono in deficit ma direttore sono le società problematiche se mi permettete in realtà perché più partite vuol dire anche più infortuni si oltretutto oltretutto però i giocatori di queste cose qui loro hanno voglia di aumentare i stipendi vediamo un attimo i risultati i risultati delle partite della sera tutti insieme così facciamo un quadro anche dei primi tempi dell'altra squadra la teatrica matita sta vincendo 1-0 con Lille il Barcellone 3-1 sul Bayern il Feyenoord vince in casa del Benfica 2-0 il Manchester City solo 1-0 con lo Spartapraga il Liverpool vince in casa dell'Ipsia 1-0 Salzburg e Dinamo Zagabria 0-0 e Young Boys e Inter l'abbiamo commentata fino adesso ma per chi si fosse sintonizzato come si diceva una volta sai nei corsi universitari che facciamo da giovane diciamo che la comunicazione televisiva è diacronica la cascata avviene nel tempo chi arriva non sa quello che è successo prima ogni 2-3 minuti bisogna ricordare quello che c'è io sono una specie di sommario ma andrei sapete che brava brava allora per ricordare per ricordare facciamo una menzione adesso il il Bayern Monaco perde a Barcellona 3-1 3-1 3-1 tenete conto che ha vinto domenica 4-0 con lo Stoccard fate un po' la dimensione la Juve perde 7-1 e Barcellona sta andando molto male nella Liga Spagnola quindi come vedi però vi volevo dire questo prima di salutarci per la pubblicità intanto vi do questa notizia è tornato dai bagni di Assago rigenerato rigenerato sorridente volevo dire che sono d'accordo con Elena quando ha detto che Bissek ha fatto finta di niente è andato subito sul media stress quando ha detto che Bissek ha fatto una buona prestazione ma sai Elena perché non l'ho messo negli app perché per me nel calcio che non era box quindi non si vince ai punti però è il mio metro di giudizio nei voti io considero molto il gol l'assist del gol perché poi sposta i giudizi Bissek solo davanti al portiere la doveva fare meglio così come in un'altra occasione da sinistra poteva crossare da solo ha avuto tutto il tempo l'ha passata al portiere quindi bene come prestazione ma nei due episodi fondamentali poi ha sbagliato però vi volevo dire questa cosa qua adesso Luciano ci ha detto con la sua esperienza una cosa semplice secondo me nel secondo tempo l'Inter c'ha innanzitutto la possibilità di mettere qualcuno l'ha stancato e poi l'ha stancato e facendogli stancare gli ha costretti a fare duemila falli a sette ammoniti e poi sicuramente qualcuno qualcuno va a casa questa è una partita da vincere comunque io volevo correggermi di una cosa prima ho parlato delle donne che praticamente la realtà perfetto sul piano dell'esame tattico no no lo sai che 3-2-5 quella tirata a destra no 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 scusa 3-2-1 il problema di fondo sai qual è è che le donne sono meno tifose e quindi le donne che si intendono di calcio hanno lacume per vedere meglio la partita e per essere meno tifose tu lo sai che stiamo scivolando sul ghiaccio del politicamente corretto non basta niente già ieri l'altro giorno tu non lo sai ho corretto linguisticamente ho detto forse devi dire gli up e i down prima o poi ci denunciano perché stiamo parlando male dei portatori no ma io parlo bene io parlo bene io parlo bene io ho già chiarito con il pubblico che è una cosa linguistica e non ce l'ho conosciuto però ho detto cambiamo cambiamo linguaggio non facersi queste battute sulle donne prima o poi qualcuno può scriverci no no ma guarda io per esempio ammiro quelle che stanno parlando di calcio perché sono non sono la moltitudine perché molto di più gli uomini sono bravissimi infatti volevo dire sono più tecniche di noi guarda Borrelli perché agiscono meno tifo però Borrelli per esempio è un aspetto di tattica no no Borrelli è un tifoso che gli ho fatto fare gli ho detto che abbiamo giocato col 3-5-2-2 era 12 e lui ci è cascato sono scherzo è una battuta è una battuta di buffone fece un pezzo di talk con i 12 e io mi ricordo i vecchi maestri tra cui Cucci che è il direttore editoriale dell'agenzia per cui lavoro che diceva che il capello gli diceva sempre si vince col 9-1 c'è nel senso con un grande portiere e Cucci se ne intende un grande portiere un grande attaccante poi gli altri 9 si vede ti piace come modello vabbè comunque a parte questo adesso torniamo un po' un attimo nell'attesa delle cose sulla partita dicevamo che l'Inter può mettere dei giocatori che stanno in panchina e cercare di vincerla e andare a 7 punti che significherebbe di fatto quasi playoff giusto Furio? si si infatti non è un obbligo come dice Luciano perché ci sono anche gli altri bisogna vincere bisogna vincere anche con un certo numero di gol considerato il fatto che lo Young Boys ripeto in due partite ne ha già subiti 8 quindi ha una media sconvolgente Mariana adesso qui facciamo un giro veloce non è che questo turno di Champions vediamo come va a fine stasera noi ne usciamo con grandi allori perché poi Milan ha vinto ma sta una partita faticosissima la Juve sera ha preso 4 schiaffi dallo Stoccarda la tournée inglese del Bologna è finita male poi di questo vorrei parlare un secondo abbiamo anche l'allenatore italiano che parla l'Atalanta stasera doveva vincere con Celtic è una cosa e stasera l'Inter sta faticando quello che non vuoi per ora non mi sembra dire figuraccia Italia mi sembra un po' troppo spinto no però lo stavo pensando in realtà come siete passati dal vostro spirito asettico a figuraccia Italia dopo ma l'ho detto non volevo sembrare troppo vabbè non è un gran bilancio no ma non è un bel calcio in generale ma io credo che in realtà il calcio italiano sia molto più debole rispetto agli altri campionati e lo vediamo sul campo perché comunque faticare in una partita del genere poi che possa essere una tattica quindi far stancare eccetera eccetera può anche starci però ricordiamo anche che l'Inter è una delle poche squadre italiane ad avere la doppia la doppia panchina perché poi alla fine dei conti i giocatori sono forti sia quelli che scendono titolari che non nelle finali delle coppie sono arrivate soprattutto le squadre italiane è ricominciata la partita un minuto di cronaca e poi andiamo in pubblicità che siamo in ritardo vai Michele sì non ci sono cambi né da una parte né dall'altra quindi ricordo tre ammoniti per lo Young Boys ma anche Dunfris che in quelle proteste per un possibile cartellino rosso lo Young Boys ha preso il giallo anche lui per la prima trattenuta attenzione a Bisseca ancora che si sgancia in avanti il pallone era quasi buono per Taremi purtroppo viene anticipato l'iraniano ma ancora Inter in avanti che sembra essere partita con un altro piglio in questa ripresa ora Barelli il cross è buono colpo di testa di Lauper ancora fuori dall'area ma Inter che ci riprova qui c'è un fallo vediamo rigore rigore per l'Inter ha atterrato Dunfris alle spalle e fa proprio cenno l'arbitro attenzione perché Agiam è anche già ammonito e credo gli abbia dato un colpo quando ormai era già stato superato anche Dunfris è ammonito ma Agiam era stato ammonito precedentemente fra tesi pezzi si viene proprio da dietro allora qua non è diciamo chiara occasione da gol ma lì poi sarebbe addirittura rosso diretto il giallo diciamo siamo al limite ha rischiato se gli tira fuori il giallo per questo fallo qua non è scandaloso ma come fai a non tirare fuori il giallo se tira fuori il giallo è rosso perché è già ammonito comunque rigore per l'Inter e questa è la notizia importante si apre bene il secondo tempo e ho detto un altro piglio è vero solo un minuto e mezzo però nel primo tempo l'Inter 25 minuti non si era vista qui invece è partita tutta in avanti attenzione perché sul dischetto va Arnautovic lo deve ammonire ora anche Barella il capitano che va a parlare con l'arbitro non capisco perché anche il capitano che c'entra a parlare anche per chiedere l'ammunizione ma ormai non è che lo ammonisci due minuti dopo ormai è passato e se tu lo ammonisci lo devi anche buttare Manchester City 2-0 con lo Spartapraga vediamo il rigore allora l'Inter che non aveva tanti rigoristi prima adesso con Arnautovic e Taremini ha guadagnato almeno due speriamo che però adesso Arnautovic faccia il suo cioè realizzi questo rigore come ha fatto con la sua nazionale in Austria Norvegia 5-1 gran gol ma anche un rigore segnato rigore per l'Inter parte Arnautovic tiro parata del portiere ancora poi sulla ribattuta Dunfris ancora la respinta e spreca tutto l'Inter questa grande occasione la massima punizione il calcio di rigore Arnautovic se lo fa parare tiro rasoterra fiacco si distende von Balmos alla sua sinistra e respinge ora addirittura lo Young Boys in avanti in contropiede attenzione in area ci pensa Bissec a scacciare via i gialloneri peccato grandissima occasione sprecata dall'Inter forse era meglio far andare Taremi sul dischetto Arnautovic si sentiva sicuro avendo segnato anche il nazionale dagli 11 metri ma sbaglia e lo tira anche in malo modo non so Furio però io sono lievemente fisionomista lo sguardo mi sembrava di uno lo volevo dire quasi esistenzialista ieri abbiamo parlato di James Dean era sofferente no ma dice bene Michele ne aveva già calciato uno con la sua nazionale probabilmente si sentiva l'ha calciato male questo calciato non male è malissimo è un passaggio al portiere è troppo centrale assolutamente ma poi non si capisce come si fa a tirare così veramente arrivano notizie poi ve le diremo prima l'azione di Marco per Mkhitaryan che può tirare carica il destro su Taremi bisogna essere più precisi qua di Marco ancora rimpalli in area ma niente da fare recupera ora Bissec di testa che la ributta in avanti per Barella che gioca a tamburello di testa con Bissec bisogna andare a segnare non giocare di testa tra di loro avvertiteli riparte lo Young Boys ma sei l'allenatore in seconda stasera dimmi un po' una cosa Claudio di solito i telecronisti dovrebbero essere obiettivi di scrivere il calcio lui non è obiettivo qui sono esplicitamente tifosi vai con la cronaca attenzione allo Young Boys ora da sinistra Joel Monteiro che passa Imeri Imeri allarga ancora a destra attenzione a Bloom che arriva dalle retrovie allora Carlos Augusto ci comunica l'Inter è uscito a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra allora risentimento vuol dire tutto nel senso che poi bisognerà aspettare gli esami per capire che tipo di insomma di risentimento è il grado il terzo incidente serio dell'Inter in due partite eh sì sono tanti non è una cosa da poco questo tema rimane sì fuori di me da come è caduto a terra gli ha fatto male male non so guardate un pochino una cosa chi è che si fa male di solito si fanno male quelli che ritornano dalla nazionale no perché andare in nazionale oltretutto è come cambiare una squadra di calcio perché cambiano le abitudini e cambiano gli allenamenti tu ritorni nella tua e hai dei problemi questo è quello che subisce anche l'Inter che forse non forse sicuramente è la squadra che è andata alla nazionale più giocatore di tutti Mariana qual'era la provocazione di Furi a cui volevi rispondere no quando è stato detto appunto che negli ultimi due anni le squadre italiane hanno raggiunto più volte finali tutto quanto questo è verissimo però erano allenatori completamente diversi cioè se le analizziamo il calcio di adesso di queste che partecipano alle competizioni che stiamo guardando hanno tutti allenatori diversi meno che l'Inter di Inzaghi quindi erano veramente altri cioè il Milan aveva Pioli la Fiorentina che ha raggiunto la conference aveva no però per dire sì però l'approccio era completamente diverso pericolo il tiro palo ancora lo Young Boys l'Inter ora si salva con Pavarri il tiro di Monteiro va vicinissimo al gol lo Young Boys speriamo qui nella legge spesso che avviene nel calcio gol sbagliato gol subito dai 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 forza ragazzi bisogna reagire Barella qui perde un brutto pallone in mezzo a due poi molto bravo Monteiro a girarsi a incunearsi al centro con De Vrij lo supera e prende il palo pieno alla destra di Sommer due cambi per lo Young Boys entrano due conoscenze vecchie del calcio italiano e adesso sicuramente sarete curiosi perché dice come del calcio italiano però prima l'Inter con Di Marco il tiro esterno della rete palla che arriva pericolosamente nella zona di Federico Di Marco che ha un grande sinistro e da lì poteva prendere la porta invece va la palla il suo sinistro sull'esterno della rete Barella il lancio da dietro il colpo di testa sbagliato del difensore Lauper che diventa un assist Di Marco la prende troppo d'esterno se l'avesse presa di collo pieno la palla sarebbe andata nello specchio della porta allora le due conoscenze del calcio italiano che sono entrate Darian Males ora due cambi anche nell'Inter Males che è passato proprio dall'Inter ma non ha fatto un minuto e poi è andato al Genoa è entrato al posto di Imeri e Colley ex Atalanta che è entrato al posto di Virginius nell'Inter invece escono Arnautovic e Mkhitaryan entrano Zelischi e Lautaro quindi Lautaro per Arnautovic e Zelischi per Mkhitaryan ieri l'aveva annunciato Inzaghi Zelischi poteva fare una mezz'ora ora Arnautovic guarda distrutto a terra distrutto perché ha sbagliato la massima delle occasioni un rigore non solo parato ma battuto proprio malissimo Montero ma anche Ugrinic che si è visto meno stasera sono i due diciamo più tecnici o meglio quelli migliori che hanno nella rosa soprattutto questo Montero ora inquadrato però meglio per l'Inter la palla è andata molto alta in questo caso sì come dicevi prima Claudio si ha la sensazione che gli errori tecnici dello Young Boys ogni 5 minuti arrivano però l'Inter ne deve approfittare se invece poi quando hai la palla prima Lautaro una palla facile doveva allargare per Dumfries fa il colpo di tacco su Di Marco oppure corto e a quel punto io non so se la regia ritrovano fra le grafiche che abbiamo fatto negli ultimi 20 giorni vediamoci l'Inter in avanti l'Inter in avanti con la sventagliata di Barella per Di Marco Di Marco cerca Taremi dialogano i due Taremi allarga a sinistra ora anche la classe di Zelischi deve venire fuori perché l'Inter ha buona tecnica con Zelischi Taremi Di Marco da questa parte a sinistra Zelischi mette in mezzo il pallone troppo sul portiere e Taremi deve andare più da rapace sul primo palo ad attaccare il palo il primo palo come si fa a scuola calcio ma arriva un po' in ritardo evidentemente anche un po' di stanchezza c'è anche Turam che prima si stava scaldando vediamo se Inzaghi lo sceglierà ci sono ancora due cambi ricordo è uscito Carlos Augusto purtroppo per un risentimento muscolare e poi sono usciti anche Arnautovic e Mkhitaryan sono entrati proprio Di Marco Zelischi e Lautaro quindi in realtà l'Inter potrebbe essere migliore anche qualitativamente allora voi guardate la formazione dell'Inter mancano i due che portano la vittoria all'Inter costantemente Turam e Lautaro che fanno entrare adesso questo è il motivo per cui magari ci sarà un po' di lotta se uno corre di più e il Young Boys corre di più in questo momento può mettere in difficoltà ma la qualità sta da parte dell'Inter che ti cambia addirittura bellissimo passaggio di Barella ad esterno a tagliare tutto il campo ma Dumfries perde l'attimo ora vediamo se si riprende punta l'uomo Ajam che è già monito lo vuole superare non si capisce come e si porta la palla sul fondo e Ajam batte il 5 con il compagno di squadra per aver fermato Dumfries ma si ha la sensazione che lì si può sfondare Ajam ha fatto una grandissima partita ma ora è stanco vediamo se verrà sostituito mi sembra che stia anche iniziando a piovere piove dicevi Luciano finiamo ragionamento che ha la possibilità di cambiare addirittura un reparto mette Lautaro e Turam che erano seduti in panchina e praticamente sono quelli che portano a vittoria e gol all'Inter quindi è lì la forza di una squadra di calcio adesso l'ha messi per appunto vincere la partita perché quelli sono ritenuti impostanti la partita è meglio vincerla vediamo un attimo dicevo la grafica le partite dell'Inter prima della prossima pausa della Nazionale oltre a Young Boys giustamente c'è lo sconto con la Juve ecco qua c'è lo Young Boys in avanti contro piede dello Young Boys Barella passaggio sbagliato facile allora ancora Monteiro attenzione il destro alto troppo spazio però per Monteiro che prima o poi la prende la porta quel tiro lì pensava ai pali del rugby anche lui se si giocasse al rugby saremmo 22 a 24 vediamo se l'abbiamo recuperata questa grafica se non ce l'abbiamo pazienza ma lo vedete i rinforzi di questa squadra i colleghi in Italia non ve lo ricordate neppure i colleghi è lato male quindi vuole dire è una competizione tra una squadra buona e una squadra prima della pausa della Nazionale l'Int si vede se la vede vediamo un attimo c'è Di Marco in avanti la palla per frattesi il tiro fuori una bella conclusione di Zelischi per la precisione Zelischi il polacco peccato perché ha chiuso troppo questo tiro di sinistro lui ha la qualità per tirare meglio tira di prima forse non lo so poteva provare a stopparla era al limite dell'area peccato perché qua c'era tanto spazio allora se l'Inter ne ha ancora lo Young Boys in difesa è sempre più pericolante si ha la sensazione che possa sbagliare dietro però bisogna valutare se l'Inter sta bene fisicamente andiamo rapidamente vediamo diciamo parte dello scontro di domenica con l'Inter poi va ad Empoli poi il Venezia in casa poi in Champions c'è un brutto cliente insomma che è l'Arsano e poi c'è lo sconto diretto del 10 novembre con il Napoli insomma Mariano non è un calendario facilissimo poi in Champions se non vinci questa partita poi ti arrivano gli inglesi forti questa prendi tre punti d'oro però ho fatto la domanda a lei scusa ma gli sono scontati i capelli bionni anche ce l'ha con te ce l'ha con te un attacco frontale così va bene era una battuta ma ha detto che sono troppo impostata vedi così io ho detto no non mi ricordo sto scherzando ovviamente scusate piovono gambi sono troppo precise tecnicamente non impostate arrivano Turam e Bastoni arrivano i nostri allora escono Taremi Stanco e Pavard quindi Bissec dovrebbe andare adesso a destra Mariana poi dopo andiamo atti con la cronaca allora questa partita è quella dove su carta teoricamente dovevi vincerla secondo me devi vincerla perché in effetti puoi affrontare l'Arsenal e tutt'altro che cosa facile soprattutto vedendo l'Inter del primo tempo perché nel secondo tempo va bene sei diventato un po' più aggressivo e tutto quanto ma personalmente non credo che schiereresti questo tipo di formazione dal primo minuto con l'Arsenal quindi questo andrebbe comunque a valutare il fatto che col Venezia magari il turnover serio lo fai completo perché se esci da questa partita cinque punti e poi dopo c'hai l'Arsenal parliamo della Champions non del campionato e poi in campionato poi hai due big match prima della pausa nazionale che sono Juve e la capolista per ora Napoli vai con la cronaca Michele terzo ingresso anche per il Young Boys intanto prima di Marco di Marco il cross ci sono troppe maglie gialle però Inzaghi ha chiesto a Turam di andare in profondità quindi di attaccare l'area di rigore vediamo ora Bissek se a destra può essere magari anche più preciso perché attacca dal suo piede anche se lui quando era in Danimarca giocava sempre a sinistra quindi noi che non è abituato l'ha detto anche ieri in conferenza dicevo è entrato Meshach e Lía al posto di Lakomi questo è un attaccante brevilineo veloce e quindi bisogna stare attenti insomma alla sua rapidità vediamo ora l'Inter che avanza con Bastoni Bastoni di Marco si ricostituisce l'asse di sinistra c'è Zelischi e non Michitani però a completare il terzetto da questa parte di Marco alza la testa cambia gioco su Dumfries che solo deve mettere però la palla a terra allora esce dall'area era arrivato già dall'altra parte in area di rigore c'è Bissek che si sovrappone Dumfries che torna indietro Barella che corre perché non è preciso il passaggio del compagno fa girare palla da quest'altra parte con Zelischi si prova ancora si prova a sinistra con Lautaro che si libera al tiro parata del portiere Von Balmos il tiro di Lautaro interessante almeno ci prova ma non troppo pericoloso questo tiro dalla lunghissima distanza a uscire ben posizionato il portiere se do la parola a Fulio se no non mi parla più per il resto della stagione almeno fino a Natale ci è stato un attacco sportale questa è la paranoia degli opinionisti attenzione il portiere stava sbagliando sul pressing di Lautaro la prima scelta dell'intervento a parte tutto non ti sembra però adesso facciamo un ragionamento questa teoria vedi lì là è che ha battuto Real Madrid Emoji e vince 2-1 in casa della Tegna Males lo Young Boys al limite dell'aria respinge l'Inter ora lo Young Boys però si è fatto risucchiare tutto in avanti si potrebbe andare in contropiede se si prende questa palla vediamo Bastoni che da Lautaro circondato da 4 allora deve tornare indietro bellissima la sventagliata di Barella però troppo sul portiere non è bellissima perché la misura non è corretta allora dicevo perché loro oltre a avere la paranoia non ascoltano quello che dico vanno per conto loro che dopo aver battuto Real Madrid sta battendo l'Atletico Madrid a casa sua detto questo ti voglio dire una cosa Bargigia Domenica ce l'avete discusso ma non con te per il tema non è più un Inter dominante un bel tema mi diverte calcisticamente c'è l'Inter dominante dello scorso anno nel gioco nella forza e tutto sommato però partita dopo partita Borrelli si arrabbierà questa Inter dominante la vedo sempre meno per i mille motivi e gli infortuni e i cambi si gioca tanto e questo e quell'altro ma questa Inter brillante che l'anno scorso è stata superiore a tutti sempre quest'anno non si vede però è ancora secondo me classifica no ma questo però qui sposo la teoria di Bargigia risultate una cosa all'analisi del gioco e un'altra Bargigia Paolo ha sicuramente chiamatelo un attimo al telefono Bargigia l'abbiamo nominato nove volte a casa in letto adesso col pleno una sua linea di pensiero dove ad esempio lui non è assolutamente risultatista lui pretende che nel calcio ci sia aspetta c'è la Young Boys in avanti a Dian Males al limite dell'area il numero 39 dello Young Boys il sinistro fuori non di molto Sommer ha lasciato scorrere convinto che la valle uscisse meno male ha avuto ragione lui e Zaghi dice e allora stiamo lì vicini perché per la terza volta un giocatore dello Young Boys tira abbastanza indisturbato quasi a ridosso della linea dell'area di rigore 10 minuti circa al termine anche qualcosa di meno ma poi col recupero qualcosa di più l'Inter deve affrettare i tempi se vuole vincere questa partita e non sprecare una grande occasione anche se poi abbiamo detto le mille difficoltà tra infortuni vari ma la difesa dello Young Boys è strabattibile bisogna andare con convinzione ora con la coppia titolare Lautaro Turam con anche la qualità di Zelischi a provare tiri e filtranti per cercare l'uomo smarcato mi piace e devo dire vi faccio i complimenti in questo voi dalla squadra di Network perché fate la prima e la seconda voce insieme che non è facile perché sai che adesso con le seconde voci Lucano una volta quando ero direttore di Sport e Mesa mi chiamò una volta il presidente con Faluñeri che saluto grande tifoso grande presidente mi disse ma non possiamo un po' abolire queste seconde voci perché parlano tanto parlano troppo insomma e poi dieci anni fa erano ancora le seconde voci certe volte sono quelle più anzi non le certe volte sono sicuramente le più tecniche di tutti no però c'è questa tendenza non so adesso lo Gianbois in avanti vai vai Michele attenzione ancora lo Gianbois zero voce no però una voce almeno no no Elia che va in velocità meno male che stavolta Bissec è molto bravo ad anticiparlo si stava facendo pericolosa l'azione perché era un uno contro uno sarebbe poi entrato in aria di rigore siamo a otto minuti dal termine l'Inter non sta portando a casa una prestazione buona in questo secondo tempo frenesia rimbalzi del pallone adesso sarà il campo non campo ma non è mai stata in controllo della partita ha avuto clamorose occasioni questo sì soprattutto Bissec nel primo tempo ma il rigore di Arnautovic nel secondo gridano vendetta poi un tiro di Taremi troppo alto sopra la traversa però per essere il divario tra Inter e Young Boys di qualità tra le due squadre ampio si poteva e si doveva creare di più ma non è finita la partita le grandi squadre sanno anche andare a vincere nel finale adesso è anche l'artiglieria pesante finiamo un attimo questo ragionamento di racconto velocemente con le seconde voci in dieci anni sono passate un po' più da ex giocatori a giocatori che voglio fare gli allenatori o ex allenatori che durante la partita fanno un'ossessione tattica continua ma no ma ti viene da pensare ti viene da pensare che l'altro sai cosa perché anche soprattutto ex allenatori ex allenatori ti viene da pensare visto che blafferano tanto ma quando stavano a fare gli allenatori queste cose qui non le vedevano le vendono tutte e quando stanno parlando io quando vedo la partita ho perso di vista la prima voce che è quella che mi dà il ritmo l'azione le notizie la poesia il ritmo e sento vedete 2-3-1 4-3-2-1 no quello è confusionario e io vado lì e cerco di capire che è successo e poi il gol come segnalo 3-4-2-1 si rialza Inzaghi è stato ammonito anche lui perché sta cercando in tutti i modi di partecipare vuole entrare in campo sta chiedendo a Lautaro soprattutto a Turam che sono i più freschi mi sono sguardo torbo Inzaghi se mi permette si vuole assolutamente spingere la squadra non lasciare niente di intentato almeno in questo finale e ora l'Inter ci prova a destra un bel colpo di tacco per Dunfris Dunfris che salta l'uomo alza la testa può crossare il cross arriva per Turam è lungo di Marco il tiro palla che resta lì no alto Zelischi cosa ha sbagliato un sinistro altissimo si dispera il polacco non da lui questo tiro anche Turam con le mani nei capelli incredibile errore di Zelischi che posso capire qualsiasi altro un difensore in avanti ma da lui no palla invitantissima che resta lì bravissimo Dunfris palla che si impenna Di Marco il rimpallo Zelischi la deve tenere sotto la massa e sfondare la rete e invece altissima sopra la traversa più di un rigore il movimento in zaghi era pronto a esultare già e poi deve trattenere ancora una volta una gran quantità di tiri sballati in alto e poi i giocatori la tecnica per colpire la palla dovrebbero avere sì ma non sono molto in stato di grazia dagli errori che vedo fare praticamente ritorno al discorso della nazionale e delle nazionali perché non solo l'Inter deve pensare a quella italiana ma pensa anche a altre nazionali per cui il ritorno di questi giocatori sicuramente ha un po' offuscato l'idea della squadra tant'è che l'ultima partita un gol strepitoso di Lautaro al volo ha portato l'Inter ai tre punti se ne l'Inter con Barella per Dunfris palla in mezzo anticipato l'olandese peccato quattro minuti di recupero se ne è già quasi andato il primo l'Inter deve stringere i tempi mancano 180 secondi ci deve provare fino all'ultimo perché lo Young Boys è stango allora frattesi frattesi che se l'allunga è stanco pure lui ma ancora Inter lo Young Boys non sale più e allora tutti in avanti anche con Zelischi che si deve far perdonare se la porta sul sinistro poi cerca un filtrante mani ancora Inter l'arbitro dice di no la palla era rimbalzata sul braccio di un giocatore di un giocatore dello Young Boys in aria riparte Colley un minuto e mezzo di recupero attenzione a Colley che è uno dei più freschi perché è entrato dopo a velocità gamba torna indietro si accontenta qua lo Young Boys di tenere palla dopo il 2-1 su Lucerna un risultato positivo comunque darebbe morale però ci provano anche con un cross nel nulla palla fuori e quindi ancora Inter adesso che deve andare velocemente è entrato anche Atecaim per Bloom terzino per terzino prima vi ho detto di attaccante per attaccante quindi comunque tutti hanno sfruttato i cambi da una parte dall'altra ora Inter con soprattutto Zelischi Lautaro Taremi mi aspetto da Taremi scusate Turam mi aspetto da loro tre soprattutto qualcosa una giocata nel finale Di Marco anche da questa parte ora lancia Lautaro nello spazio e gli tirano la maglia giocano sempre a rugby loro ancora Di Marco il cross palla buona e gol di Turam che la decide la decide al novantatresimo Marcus Turam Marcus Turam Marcus Turam anche oggi anche oggi con l'ottavo gol in stagione il primo in Champions League Di Marco le forze fresche e Turam con Lautaro che ci ha provato il corpo di tacco di Marco tutta la sinistra quelli che Inzaghi ha chiamato ha fatto l'appello Di Marco Lautaro e Turam voi hanno risposto presente il gol di Turam al novantatresimo internazionale 1 Young Boys 0 ultimo minuto da seguire mi sembra mi sembra che ancora non abbiano ricominciato se non sbaglio c'è il replay dell'azione tacco di Lautaro cross di Di Marco bravissimo ad attaccare il palo Turam che la mette dentro io ti volevo dire io faccio tu fai intanto tu fai la cronaca della partita faccio la cronaca dello studio e ti voglio dire che Marina ti ha guardato lei che è così composta ha detto la nuova generazione delle giornaliste che sono molto formali e ti ha guardato come dire ma che cos'è chi è questo qua insomma ma perché quando è intonato Marco Turam quando ha detto ma prolungato pensavo di dicesse ma che sofferenza invece no Marco Turam l'hai guardato con un file perché infatti è una forma di delirio 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 è vero o no però quando ormai pochi ci credevano no ma è una cosa divertente piacevole dai Inzaghi ha chiamato fino all'ultimo finiamo un attimo la grona della partita vai tenere le palla ora Turam di testa la sponda nel nulla e quindi lo Young Boys che aveva sperato di portare a casa il risultato ora però si deve arrendere all'Inter che attacca anche nell'ultima azione vediamo Turam e qua subisce fallo punizione dovrebbe finire qui la partita fischia arbitro Michael Oliver fischia Michael Michael da Michele a Michele ti chiamo il triplice fischio evocativo 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 fischia e qui dobbiamo essere fischia fischia mi assomiglia a Barbato no no però sai che c'è non riesce a fare il calcio preventivo il calcio preventivo non riesce ancora a farlo no no però questo 0-1 sarebbe pesantissimo pieno in cascina nella classifica dell'Inter che potrebbe salire a 7 punti ancora Inter non so perché Oliver vuol far giocare 4 minuti e 40 sul cronometro è vero che c'è stato il gol Inzaghi dice è finita ti dico che è finita è finita per Oliver no ricordiamo che lui al posto del cuore ha qualcosa che potrebbe un bidone attenzione attenzione a quest'arbitro che non ha espulso nel secondo tempo un sacco di bidoni non ha espulso a Giamma avrebbe dovuto giocare in 10 tutto il secondo tempo c'è Lautaro solo davanti al portiere il tiro la parata del portiere arriva Turam la respinta ancora il 2-0 che non arriva a questo punto credo che possa finire qua Turam a terra ma l'arbitro dice che è finita qua l'Inter vince con grandissima sofferenza un po' di anarchia tattica un po' di problemi vari non è mai stata in vero controllo della partita ma come dicevo le grandi squadre nel finale possono sempre trovare la giocata e l'hanno trovata una giocata pulita bella dopo 2-3 gol mangiati uno in rigore di Arnautici ma con te li schiauto Lautaro il tacco di Marco il Corso ma pensa se era 0-0 e Turam aveva sbagliato e guarda che l'azione è da chi è arrivata dei tre subentrati sempre dei tre subentrati ma soprattutto da tre titolarissimi però posso dirti che visto che avete parlato del calcio predittivo io voglio richiamare qui quelli che facevano i pendolini voglio richiamare la mia amica Stefano ricordi quella che parlavo con Luco che non si capiva niente insomma però la predizione calcistica l'ha fatta Luciano che ha detto poi metti in campo Lautaro e Turam uno dei due verso la fine approfittando un po' della stanchezza di una squadra inferiore tecnicamente segnano a Roma ha segnato Lautaro c'hanno avuto anche un problema diverso il campo perché in quel campo lì il pallone balza in maniera diversa e per questo calciavano anche troppo alto va bene però insomma di fatto mentre ora ma che stai con chi stai a digitare che sta a fare non ti stai con chi a casa con chi con il sito in cui collabori finlandese con chi stai collaborando con la Finlandia no 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 mentre Michele prepara gli up and down non gli up and down up and down noi facciamo un giro di commenti Luciano già l'ha detto cominciamo da te dai che c'è tanto ma che dire io già avrei commentato che sofferenza se vuoi di niente non di niente no 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 ma io dico che sofferenza ti tieni per dopo ma tu sei abituato a soffrire col toro quindi per te è normale amministrazione è normale amministrazione però vederlo dall'Inter sinceramente un po' ti destabilizza perché in effetti è clamoroso che abbia che abbia sofferto così tanto sinceramente si l'abbiamo detto ma il Tottolino si è venuto a vedere la Sanziera lanciava i sassi contro l'arbitro no 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 faccio di peggio allora diciamo finiamo la nasi dai siamo sedi assolutamente come avevamo già analizzato inizio partita ma penso che fossimo tutti d'accordo ci aspettavamo una partita tutt'altro che è difficile per l'Inter invece l'Inter ha subito tanto ha fatto anche poco perché secondo me ha fatto poco e poi per carità le tre pedine le carte vincenti si sono rivelate poi alla fine quelle davvero vincenti rispolvero solo una cosa che ha detto prima fu in pubblicità che nessuno da casa l'ha sentita ovvero la prestazione di Barella ovvero un Barella che comunque secondo me reduce dagli infortuni che comunque ha avuto sta rendendo molto di meno molto di meno ci agganciamo molto di meno ma Barella Barella rende meno perché è un campo avverso il suo che non è quello abituale e poi gradatamente deve ritrovare la forma non è che si mette in campo e già in forma no però io parlo anche del precedente scusa quando praticamente si recupera lo stato medico non è la forma sportiva che viene fuori attenzione diciamo sei in condizione di giocare ma non è detto che sei in condizione di essere in forma no soprattutto deve recuperare piano piano perché altrimenti rischia infortuni allora l'Inter però pragmatica 1-0 a Roma ed è seconda in campionato 1-0 stasera al 92esimo mi sembra più o meno quasi 93 e comunque a 7 punti in Champions si avvicina almeno alla zona playoff vabbè tutti gli obiettivi raggiunti dominanza non dominanza del gioco pragmaticamente Inzaghi sta avendo ragione no? sì sì ma del resto il risultato è quello che conta adesso bisognerà vedere cosa succederà contro questa Juventus e comunque Inzaghi ha capito che le seconde linee sono rivedibili e comunque serve un altro attaccante perché Arnautovic non è affidabile mi sembra che Inzaghi comunque sia sempre sul pezzo fa molta fatica non è l'Inter brillante dell'anno scorso dove è stata non brillante brillantissima però è ancora su tutti i fronti e questo è molto importante possiamo dire Elena che quel centrocampo gioiello dell'anno scorso per mille motivi infortuni o tempo che passa o magia degli incastri chimici che non sempre ci sono adesso per sposare alcune teorie di alcuni allenatori non è più quel polmone straordinario dell'anno scorso anno Diamo il tempo comunque c'è la Noglu fuori adesso Barella che rientra dagli infortuni Mkhitaryan che magari c'è un annetto in più può pesare sicuramente però c'è Fratesi hanno un fratesi è una bella novità L'uomo in tutti i spalletti Elena va anche contestualizzato contro l'avversario perché ti ripeto lo Young Boys la Champions League l'ha vista quest'anno forse non la vedrà mai Sì però hai visto che quando hanno messo il trio d'attacco hanno fatto faville cioè hanno creato un'azione meravigliosa Perfetto però comunque doveva nei piani di inzagli doveva essere sufficiente la quadra titolare Ma è giusto che l'allenatore faccia delle prove Questo sicuro Comunque Furio il problema di Senologro è il mezza squadra se non c'è lui non ci sono idee Praticamente il pallone dal piede suo va sempre sul compagno libero e questo qua e questo conta nelle partite facili e in quelle difficili attenzione perché anche in quelle facili se sbagli il centro campo io non ho visto un centro campo armonico stasera assolutamente no assolutamente no ed il motivo è prima di tutto il capo e il secondo motivo è che nella sostanza manca chi ha la testa per mandare il pallone in modo giusto per esempio ti faccio un esempio ed è un esempio banale perché potrebbe anche non verificarsi c'era logo in campo l'Inter già vinceva 1-0 prima di fare l'1-0 perché il rigore c'era logo lo metteva dentro tanto per dirti quello che vale un giocatore però anche da un punto di vista atletico era poca roba scusate un secondo mentre Michele prepara con la regia la grafica di up and down chiedo alla regia vediamo risultati complessivi della serata e della giornata e poi dopo andiamo in pubblicità così facciamo una discussione senza interruzione sui migliori e i peggiori il Lilla l'abbiamo detto è 3-1 ha vinto con l'Atletico Madrid Barcellona 4-1 al Bayern comunque abbastanza clamoroso perché il Bayern è una delle favorite di questo magari il Barcellona è tornato a grandi livelli il Feyenoord pure anche questa è una parte abbastanza sorpresa perché in casa in Portogallo del Benfica è 3-1 Manchester City ha dilagato come era prevedibile Liverpool ha vinto in casa dell'Ipsia quindi l'Ipsia oramai ha perso con la Juve ha perso con Liverpool no il Dinamo e Zagabia ha vinto con il Salzburgo che mi sembra in crisi una squadra che era forte il scorso anno gli scorsi anni quest'anno mi sembra allora scusa prendiamo delle partite Salzburgo Dinamo e Zagabia Sparta e che Praga ma ragazzi ma questi in Coppa dei Campioni se la vedevano col binocolo potevano andare in Europa e tutto e non è che da più spettacolo da meno spettacolo perché se vinci 5-0 o 9-2 come ha fatto una partita mi sembra il Bayern ma che ci scopo ha Dormund hai visto il Celtic aveva prima vinci 5-0 appunto ma quindi a me non piace per questo motivo c'è troppo dislivello vediamo anche i risultati del pomeriggio così la prossima volta che vediamo una grafica sarà felice grande Paolo Marcello che ci assiste in regia con tanta pazienza 0-0 Atalanta Celtic abbiamo cominciato la puntata con questo e Brest Leverkusen una questa è un po' una sorpresa perché Brest è una squadra per tutti noi abbastanza sconosciuta francese sconosciuta e che a 7 punti ci siamo andati forse a fare un viaggio in Bretagna e mai praticante la Coppa dei Campioni la Bretagna è molto bella in questo momento nella classifica Champions il Brest ha 7 punti sì sì lo so ma infatti è sorpresa è veramente una sorpresa e credo che Lille ne abbia 9 se non sbaglio e Lille no la Rassett a Stonville a Liverpool a 9 punti 6 Lille allora è ancora la simpatia per te insomma tu sei che gioco assolutamente vai Michele con le tue scelte dei migliori e dei peggiori visto come la riguarda l'ingai da questa sigletta che parte così all'improvviso è così una cosa meccanica impulsante sì questa era voluta dal grande Bellucci in onore a Mauro Bellucci c'erano sempre delle grandi vabbè vai carino vai grande Mauro che salutiamo sempre ricordiamo anche quando ci siamo gli appendati allora negli app è il gol decisivo per i parametri che vi dicevo prima poi le pagelle sono ovviamente opinabili per quanto mi riguarda il gol è importantissimo anche il movimento che ha fatto in quell'occasione quindi Turam 7 mi sono piaciuti anche Dumfries in generale è stata sempre una spina nel fianco da quella parte si è procurato il rigore secondo me lì si era procurato pure un'espulsione ha avuto un avversario comunque che era il migliore dello Young Boys ma l'ha messo in difficoltà all'occasione Izelischi nasce pure su una sua iniziativa insomma tante iniziative 6 e mezzo non trascendentale e Di Marco 6 e mezzo perché comunque è il cross del gol e come è entrato si è ricominciato a giocare a sinistra con continuità in avanti poi si potrei citare pure Bissek ce ne sono non tanti altri ma vedete i voti non sono altissimi però Dumfries Di Marco e Taremi anche Taremi si è distinto non l'ho messo ho messo Turam perché poi Taremi è calato nel secondo tempo i down e vabbè qua è troppo semplice dire Arnautovic perché sbaglia un rigore ma già la sua partita è stato senza nessuna pietà spero è giusto già la partita non era buona poi sbaglia pure un rigore calciandolo malissimo e dal 5 scende a 4 l'unica partita dove giochi la titolare te la devi giocare Mkhitaryan e Zilischi si sono alternati Mkhitaryan mi aspetto sempre di più quando gioca bene lui gioca bene l'Inter oggi anche perché gli mancava Cialanoglu vicino Barella è appena tornato comunque l'Inter non ha mai trovato il vero modo bravo gli mancava Cialanoglu vicino gli mancava Cialanoglu vicino non ha mai trovato comunque il modo di imprimere la sua forza sulla partita quindi si sono stati alti e bassi tutta la partita quindi Mkhitaryan ha sofferto quando è entrato Zilischi loro sono calati ha avuto la possibilità anche non correndo tanto ma con delle stoccate la sua giocata ne ha avuto almeno un paio le ha sbagliate tutte e due clamorosamente quindi 5 e me siete tutti d'accordo di la verità abbiamo indovinato però appena entrano quelli buoni vincere la partita è vero l'ha vinta con i subentrati chi è d'accordo chi non è d'accordo io sono solo d'accordo su una cosa prego prego su Dunfris io non ho una simpatia particolarmente a livello tecnico sul giocatore ma personalmente a me appare tanto disordinato cioè quello che fa e però si va bene ha portato è stata una spina nel fianco però personalmente non pare alla qualità comunque infatti perché la qualità è un'altra cosa scusa il disordine di un giocatore può essere praticamente nel portare avanti la palla tanto ma portare la palla avanti tanto significa portare avanti la squadra e magari però poi alla fine non ha mai finalizzato niente però lui non deve no no un momento lui non deve finalizzare lui deve portare lui deve portare ma beh che non piaccia io sinceramente ho visto invece un po' di più dall'altra parte Frattesi cioè a me invece Frattesi ma sono due rolli diversi sì però l'ha presa molto meno però l'ha portata più avanti la squadra in maniera un po' più ma Frattesi è il Mkhitaryan della situazione se gioca uno può giocare l'altro perché Frattesi è uno che si insinua nelle linee dell'avversario come fa Mkhitaryan ha portato la squadra avanti in maniera un po' più incisiva più pericolosa Dunfis sinceramente adesso di là che abbia creato il rigore però personalmente non è che ho visto proporsi per fare delle azioni veramente insidiose ma questo è un misto di difensore e mezzo centrocampista è uno che deve portare avanti la palla lui non ha l'obiettivo di segnare anche di segnare se ricapita ma non è certamente la qualità sua qualcuno vuole dire qualcosa c'è un terzium su Dunfris no 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 scusami no secondo me invece Dunfris ha giocato bene perché è stata sempre tra virgolette una spina nel fianco anche nel primo tempo quindi è stato più incisivo forse è vero che è un po' disordinato però quante volte è andato in avanti si è fatto trovare nell'area di rigore avversaria sì però erano azioni che alla fine non erano secondo me non che non fosse incisivo lui però era quello che lui portava non essere incisivo comunque per la squadra cosa che da poco era visto un po' di meno però da frattesi che invece portava a delle azioni un po' più concrete più pericolose Mariana sono due ruoli diversi no no non so che sono due ruoli diversi però nel senso a livello di quello di come entravano a Dunfris a Dunfris gli si chiede di arrivare in avanti con la palla a quest'altro di insinuarsi nelle linee avversarie per portare i problemi che frattesi sa portare perché frattesi segna anche dei gol spesso e volentieri quindi sono due ruoli che non si possono confrontare e quando Dunfris gioca come ha giocato stasera lo puoi dire che è disordinato ma la palla la porta sempre nel punto giusto e poi magari la perde perché si confonde ma quando la porta da su c'è anche il compagno che può riuscire anzi è una bella autonomia d'altro signore vi posso vedere io penso che su Young Boys io penso sento dentro di me ma come dire direbbe Kant la mia categoria trascendentale interiore che abbiamo detto quasi tutto su Young Boys Inter che non è comunque una partita Luciano che rimarrà negli annali del calcio noi sono due ore e mezza che la commentiamo tra poco dobbiamo vedere com'era l'erba sintetica del campo allora vediamo invece e chiudiamo che c'è la classifica si di solito lui quando viene Paolo Marcello nel buio mi sgrida o ho fatto qualcosa o devo dare la pubblicità adesso la classifica in maniera podittica e vabbè è stato per dare comunque andiamo vediamo la classifica e qui oramai resta attenti che prendiamo ordine insomma allora per chi non lo sapesse con questi meravigliosi colori abbiamo identificato le tre categorie dantesche quelli che vanno direttamente agli ottavi di finale quelli che vanno ai playoff e quelli che vanno a casa mi piace l'ultimo mi piace la mia sintesi e chiaramente con le dieci categorie che ieri abbiamo fatto vedere e non rifare rivedere questa sera o li facciamo rivedere per il pubblico con Borrelli che lo interpreterà per l'ennesima volta non sono solo i punti ma c'è la differenza reti ma c'è quanto hanno fatto le avversarie rispetto a un'altra avversaria c'è diciamo la somma dei falli che ha fatto una squadra piuttosto di un'altra il ranking di una squadra allora adesso a questo momento se me la data anche qui sullo schermo evito di fare no però ci vedo dai i dieci decimi vediamo se vengono mantenuti perché non è solo il problema di distanza e di numeri ma anche di colori poi chi è che abbiamo avuto in mente di fare queste striature sulla grafica si può fare una cosa con dei colori unitari quello è vero io l'ho vista adesso lo sto vedendo in altri emittenti vedo blu e bianco è carina esteticamente potrebbe essere anche carina ma è difficoltosa adesso tra un po' di papà la Marcello ci lancio una telecamera addosso perché per farla so che la fanno manualmente e ci metto uno adesso mi lancio una telecamera addosso questi tre punti è la prima volta che l'Inter compare nei verdi va bene Aston Villa 9 punti Liverpool 9 Manchester City 7 Monaco e Brest sorpresa con l'Evercusa 7 c'è la tua gara Inter e lo Sporting Lisbono e questi vanno insomma nel immenso girone del purgatorio che c'è? c'è davanti ce l'ho davanti adesso è diventato se vuoi vieni qua ma lo dici direttamente vogliamo portare Paolo Marcello in studio seduto qui sul centro del tavolo che dici? a centro del tavolo no scherzo allora ce l'abbiamo anche qua qui vedete Arsenal che vedete ha 7 punti ma pur avendo gli stessi punti dello Sporting Lisbono che dobbiamo spiegare Luciano Lagente qual è l'ingranaggio di questa nuova Champions non si capisce niente ha gli stessi punti dello Sporting Lisbono ma è diciamo nella categoria del purgatorio perché evidente lo Sporting Lisbono ha uno dei parametri che la rendono diciamo migliore dell'Arsenal poi il Barcellona a 6 Dortmund a 6 Benfica Juve Lille Feyenoord a 6 l'Atalanta a 5 Stoccarda a 4 beh poi sorpresa è presa in Germania a 4 ma diciamo Luciano è presa in Germania senza è una squadra diventata nonostante è una squadra fatta da trequartisti mancano i centrocampisti e ci sono poche difensioni nonostante già abbiano speso più soldi che dell'interno dell'Italia nel porto di 20 anni ne devono dare ancora 55 ma beh a prescindere hanno fatto spese più di tutti con la squadra meno carismatica e soprattutto meno funzionale perché nel Mila tu che sei del Mila hai visto molti trequartisti che fanno centrocampisti e sono quelli che saltano l'avversario e divertono anche il pubblico se lo perdono però il pallone non lo vanno a recuperare la riaggressione non esiste per cui i contropiedi vengono solitamente facili e il Mila subisce dei gol proprio per più motivi e il Paris Saint Germain è questo finiamo di vedere la classifica poi c'è il Celtic Sparta-Praga di Zagab a 4 Bayern-Mone anche qui una sorpresa solo tre punti e il Girona che era la sorpresa l'anno scorso della Liga Spagnola andrebbe ai play-off il Milan che pure gli stessi punti di Bayern-Mone e il Girona in questo momento andrebbe a casa che evidentemente è uno dei parametri che poi vedremo non c'è là come anche pure gli stessi punti il Brujo dell'Atletico Madrid a 3 e poi vabbè c'è l'inferno PSV a 2 Bologna 1 Shakhtar 1 Lipsi Sturgratz Sturgratz Salisburgo Jan Bois Slova Badrila ci sono un po' quelle squadre hai detto delle squadre che la Serie la Coppa dei Campioni l'hanno mai frequentata beh per farla a 36 per forza qualcuno ci si qualcuno dell'Europa ma non l'hanno mai frequentata per qualità di immagine e non solo di immagine di qualità di squadra non sono abituate e quindi ma poi vedi tu hai menzionato praticamente delle squadre che andranno a finire e a fare la finale e poi leggi la finale e ti troverai il Real Madrid e Manchester City è lì ma io non conosco due squadre austriache quindi non è tanto il Bayern Monaco che è una sorpresa perché il Bayern Monaco non è più quello di prima non c'è dubbio vediamo vediamo che adesso il buon Michele che è uno molto preparato tecnicamente su tutto ti ho un complimento e ti faccio non sto scherzando e quindi ci aiuti molto nell'interpretazione delle cose anche a favore dei spettatori tu sai io sono nei giornali sono per l'editoriale sul Medio Oriente e poi per una frase che dice che vuol dire jihad anche i grandi giornali lo fanno che molta gente dice ma che è quella roba là io una volta ho fatto quando c'era la prima guerra in Afghanistan dopo le torri gemelle l'ho fatto uscire uno col microfono e ho chiesto alla gente dopo il decimo speciale che avevamo fatto se sapevano chi era il Mullah Omar e venne fuori dai questionari e tutti pensavano che fosse la danza del ventre invece lì è dei talebani capito allora noi spesso parliamo e senza capire che la gente che ci segue non ha gli elementi grammaticali per decodificare quello che diciamo sai che mi è successo a me eravamo a giocare in Portogallo stavamo giocando a carte in mattinata e vedo praticamente la proiezione di un aereo che entra in una torre non seguivo il film e giocavo a carte e dico ma guarda fanno film anche di mattina alle 11 e mezzo era una verità ma poi li avevano fatto evacuare perché avevate l'albergo vicino al World Trade Center e si è giocato lo stesso sia l'11 che l'12 ci fu grande polemica ci fu Roma Real Madrid lo stesso in Italia vediamo un attimo le 10 categorie i 10 parametri della nuova Champions e ce li illustra tutti il buon Borrelli cominciamo dai sì allora la differenza retica è quella più evidente l'abbiamo vista con il più o il meno nella classifica prima è importante perché sicuramente arriveranno squadre a fare i punti poi in caso dovesse esserci sia parità di punteggio che di differenza reti ci sono i gol fatti i gol fatti fuori casa il numero di vittorie il numero di vittorie fuori casa i punti delle squadre avversarie questo è un parametro curioso cioè se tu hai incontrato 8 squadre che loro hanno fatto 16 e le altre 8 hanno fatto 30 vuol dire che le hanno fatto 30 sono più forti quindi tu hai un punto in più esatto vai davanti questo l'ho capito non è male poi i gol fatti dalle squadre avversarie quindi sempre in base alla difficoltà diciamo del calendario che hai potuto avere il minor punteggio disciplinare significa che se tu hai meno cartellini gialli che valgono un punto e meno cartellini rossi che valgono 3 punti hai fatto meglio sei stato più sportivo e poi alla fine se proprio sono tutti pari a volte capita è come se fosse un campionato di 8 giornate può capitare c'è il coefficiente del ranking per quanto riguarda invece solo una considerazione sulla classifica sulle 5 italiane allora c'è l'Inter che per la prima volta si affaccia nelle prime 8 ma ha beneficiato anche di questa doppia partita a Stella Rossa Young Boys dopo il Manchester City quindi adesso il calendario ritorna in salita con Arsenal sono nella fascia intermedia la Juventus e l'Atalanta l'Atalanta oggi si è mangiata veramente una grande occasione perché in casa col Celtic ce la poteva fare il Milan è vero che è la prima delle escluse ma ha avuto il calendario molto complicato quindi adesso dopo il Real Madrid diventerà in discesa il Bologna invece è quella delle 5 italiane che avrà molta vita a durare sentiamo faremo in tempo daremo l'italiano dopo io adesso direi che noi possiamo però ho una domanda il gesto sportivo che dice più 3-3-1 eccetera che senso ha? perché favorisce le squadre meno fallose se tu sei l'unica cosa che può essere dismesso da una regola del genere poi se con 5 minuti poi se questo ha 5 tonalità in meno sì ma una squadra può vincere anche essendo più forte atleticamente facendo anche più farli ma se fa più farli e viene meno dai questo mi sembra una stupità però noi abbiamo raccontato tutti i parametri no 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 ma d'è giusto che hai ragione io l'ho chiesto io che me lo sono chiesto e dobbiamo dircelo mentre la raccontiamo se questa nuova formula davvero apporta un torneo che fa diventare più spettacolare oppure no per ora a me sembra non è con questo ce l'ho con chi ha comprato i diritti di questa cosa ma lo sai perché non diventa spettacolare perché quelli che devono andare fuori vanno subito e poi rimangono per le cose io sono di una generazione in cui il mio capo dell'epoca Piazzivio Berlusconi comprò i diritti della Champions cominciò da te perché all'inizio di questa puntata quando abbiamo un po' anticipato il tema della Juve al di là delle partite di Champions hai detto che Tiago Motta di fatto è già l'hai detto tu non mi ricordo male hai detto tu è già in discussione no per me è in discussione no ma tu e tu proprio la volevi già mandarlo via proprio no mandarlo via nel senso io non l'avrei proprio preso per la partita mi ricordavo che è stata proprio radicale se c'era qui Bargigia bisognava diventare con i sali è stata fortunata che c'è Bargigia ma perché cioè adesso questo Tiago Motta che dice che ti dà queste spiegazioni l'hai ascoltato cosa hai pensato sentendolo insomma ma allora lui ha fatto sicuramente l'analisi corretta nel senso poco incisivi le costruzioni dal basso una cosa e l'altra però il punto è che non puoi permetterti di giocare a mio avviso in quel modo perché non l'hai fatto soltanto ieri l'hai fatto come ricordava Elena prima a inizio puntata contro la Lazio l'hai fatto contro il Cagliari l'hai fatto comunque in altre partite ricordiamo i due scontri diretti appunto dove è semplicemente pareggiato poi va bene la difesa forte va bene tutto quanto però a mio avviso si è giocato bene Alizia ma tanti giocatori non stanno rendendo allora gli unici che riesco a salvare onestamente sono Consei Sao che poi ieri hai tolto per mettere UEA dentro perché è l'unico che poi tra l'altro corre in velocità e ti salta l'uomo e l'altro invece Cambiaso Cambiaso che ha inserito che secondo me ti ha dato un minimo di velocità anche in più un po' di giro palla e basta cioè Fagioli ha fatto secondo me una partita bella quella con l'Ipsia ma le motivazioni le ha dette anche Luciano prima altri chi? cioè Blaovic inesistente Illiz sì ha fatto qualcosa ma ha fatto qualcosa che per essere alla Juventus non basta cioè un qualcosa che è di non concreto Luciano voglio sentire per ultimo poi c'è Michele che ha due battute di quello che ha detto Inzaghi nel post partita e perché oggi farà la Cassazione su Tiago Motta dentro o fuori Furio però oggi ho letto una cosa mi sembra sul Corriere della Sera interessante no? lui ha un overbooking di infortunati ieri nelle sostituzioni ha fatto un overthinking cioè come cercare un colpo di genio e ha finito per mettere un po' giocatori a caso come il giovane Azzic mi sembra che ha posto di Blaovic tutti hanno gli infortunati no io qui c'era in questa frase però del Corriere c'è una contestazione all'allenatore cioè io ieri l'ho detto a Bagigia innamorato delle proprie idee innamorato della propria cerebralità è così? assolutamente sì overthinking mi piace la cosa peggiore di ieri che allo stadio incontro una squadra che probabilmente ha fatto la prima o la seconda Champions League della sua vita e poi non ci sarà più il migliore in campo sia stato il portiere della Juventus che ha preso nove otto ho visto delle otto qualcuno che ti ha anche salvato con un calcio di rigore mentre in attacco non si è visto nessuno non è una hanno fatto male i calcoli probabilmente gli ha fatti male anche lo stesso Tiago Motta che doveva spingere per avere un secondo attaccante senza aspettare Milik che si sapeva già ad agosto che non era disponibile per iniziare il campionato non può iniziare il campionato con un solo attaccante è stata celebrata soprattutto dagli Juventini come una vera e propria liberazione la vendita di Ken alla Fiorentina però si è visto anche che sfruttato in un certo modo può essere utile Allora prima di sentire cosa ha detto Inzaghi Allora Inzaghi dice per quanto riguarda la partita eravamo in Champions abbiamo visto che le partite sono tutte complicate le ultime italiane qui avevano sofferto non è semplice giocare su questo campo abbiamo perso le distanze in alcuni momenti ma abbiamo avuto tante occasioni per poterla vincere la squadra ha avuto grande cuore abbiamo meritato la vittoria poi gli chiedono il fatto che i subentrati quando sono entrati i titolari avete vinto la partita significa solo che sono entrati bene in campo come erano entrati domenica quelli di Roma ho una rosa attrezzata abbiamo qualche defezione abbiamo sette partite ravvicinate dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché avremo questo tour de force le ultime due battute sono cosa cambia senza Cialanoglu lui dice un giocatore importante poi mancava pure il suo sostituto Gaslani a Barella per quello che ha fatto domenica oggi bisogna solo fare i complimenti ha fatto due ottime gare speriamo l'emergenza possa rientrare e la domanda finale su Arnautovic gli ho parlato in panchina era deluso i rigoristi erano lui e Taremi con la stella rossa ha tirato Taremi stavolta insomma se la sentiva lui gli ho detto di stare sereno e continuare a lavorare così perché ci sta dando una grande mano vabbè insomma è stato gentile è corretto era una grande scommessa quest'anno questa di Diaco Motte c'è chi era d'accordo chi non era d'accordo rivelazione col Bologna giocatore allenatore giovane scommessa fino a questo punto è andata abbastanza bene perché insomma diamogli tempo un buon punteggio in campionato pochi gol presi sei punti in Champions poi alla fine una vittoria a fatica con la Lazio una brutta sconfitta ieri ma non è che al di là di tutte le riflessioni e poi questa assenza di Bremer diventa l'elemento decisivo è sicuramente un'assenza pesante perché è il comandante della difesa Bremer e il fatto che sarà assente per tutta la stagione sicuramente sarà un peso sia in campionato che in Champions League comunque Tiago Motta ha inserito anche dei giovani e questi giovani probabilmente avevano anche bisogno della figura in campo di Bremer che comandava il reparto adesso abbiamo visto è stato inserito Danilo bravo anche lui cioè ieri purtroppo ha fatto una pessima prestazione fatto e mezzo ha preso dappertutto in 20 minuti di gioco più o meno perché è entrato verso il settantesimo quindi sicuramente il reparto della difesa dovrà essere rivisto e bisognerà capire se si continuerà a dare fiducia ai giovani se non ci sarà un cardine che comandera i giovani perché l'altro può essere gatti come cardine però anche lui di fatto è giovane è cresciuto tanto l'anno scorso con Allegri Prima di sentire Luciano sentiamo la seconda e ultima dichiarazione di Diaco Motto sul dobbiamo migliorare per competere ad alto livello sentiamo un po' non faccio per alzare la tensione perché non abbiamo bisogno i nostri giocatori mettono sempre l'atteggiamento giusto e non facciamo niente per caso è tutto studiato è tutto visto è tutto preparato e l'avevamo visto che era una squadra che era difficile da affrontare avevo messo come esempio l'ultima partita che hanno fatto in campionato anche se hanno perso 4 a 0 però nel primo tempo tante volte sono scappati della prima pressione del Bayern Monaco e potevano andare in vantaggio non l'hanno fatto anche perché di fronte avevano una squadra forte come il Bayern Monaco nel secondo tempo è stata una partita diversa contro il Real Madrid hanno meritato un qualcosa in più contro il Borussia Dortmund stiamo parlando tutte di grandissime squadre dove loro hanno fatto molto bene delle volte vinte delle volte perse ma hanno fatto molto bene vuol dire abbiamo affrontato una buonissima squadra che ci ha messo oggi in difficoltà noi sicuramente a questo livello qua dobbiamo migliorare possiamo migliorare sicuramente per poter competere anche con delle squadre che mettono ritmo intensità qualità nel gioco e noi migliorando sicuramente possiamo competere con loro o con le prossime squadre che affronteremo allora stavo dicendo una cosa tecnica ai miei collaboratori ai miei nevroci sul tempo io riduco tutte le dichiarazioni della metà sono vecchie no sono vecchie però insomma hanno ancora un loro valore ma diciamo prossimo intervento 24 ore dopo ve le diamo più accorciate ho notato che dopo una partita così negativa nelle dichiarazioni di Tiago Motta non c'è un'analisi non c'è un nome non c'è un cognome non c'è un reparto lui non dice niente vogliamo dire la Cassazione ho tenuto per ultimo moggi la prima cosa che praticamente non si doveva dire della Juventus competitiva la Juventus non è mai stata competitiva perché basta guardare la squadra in campo è una squadra leggera che non dice tanto al centro campo che non dice tanto davanti che non dice tanto dietro lì probabilmente c'è il discorso di Bremer su questo non c'è dubbio ma la realtà qual è? alla Juventus come a tutte le squadre di calcio mancano i leader e i leader fanno giocare anche i giovani e lì non ci sono perché sono tutti giovani hanno idrolatrato Ildice e allora voi vi mettete in campo praticamente Vlaovic che è forte di testa da una fascia c'è Gonzaga Gonzales che praticamente deve dare il pallone per la testa di Ildice da quell'altra per la testa di Vlaovic da quell'altra c'è Ildice che anziché dare palloni a Vlaovic per la testa di Vlaovic scarta uno due avversari poi perde la palla poi la gente mi dice ma sì questo è bravo scarto perfetto quanti corsegni al campionato quante palle quante palle mette in centoare uno come Di Marco per dire facciamo la differenza prego quante palle mette in centoare uno come Di Marco Di Marco si parla di qualcosa di diverso molto più approfondito e molto più in partita oltretutto poi ha intesa più con i compagni e poi ha compagni diversi perché se voi guardate per esempio il Vlaovic di ieri Vlaovic di ieri lui aspetta la palla sta fermo qui e l'avversario che lo marca è dietro qua e non si muovono quindi il problema di fondo dove sta è proprio nella mobilità del soggetto che non va a cercarsi la palla primo perché l'attaccante quando noi si parla anche di Taremi si parla di un centroavanti che praticamente va in giro per il campo a dare una mano anche ai compagni lui no lui aspetta il pallone nei piedi è stato d'accordo con quello così chiudiamo il ciclo degli interventi sulla Juve su quello che ha detto Marianna che forse Tiago era troppo giovane non andava a preso che era un allenatore più esperto per ripartire dopo tutto quello che è successo non lo rivediamo qui lo sappiamo a memoria allora secondo me lui è in prova come tutta la squadra non ci sono dubbi perché prendere per buono un campionato fatto a Bologna dove la maglia pesa molto ma molto meno è improprio praticamente portare un discorso del genere con la maglia bianconera della Juventus che è molto ma molto più pesante detto questo se andiamo a guardare i giocatori comprati noi non vediamo un allenatore deve essere il primo che deve dire una cosa del genere il leader perché si vincono i campionati dove ci sono i leader in difesa faccio un esempio di quelli che è capitato a me in Montero Cannavaro Buffon anche in porta il leader al centro campo dove c'è Viera dove c'è Emerson eccetera questi sono i giocatori appresso a questi possono giocare anche i ragazzini perché Turan ha qualità per giocare ma deve essere aiutato con l'esperienza di chi praticamente ne sa più di lui allora diventa una squadra armonica la Juventus è in questo contesto e io guardate io ce l'ho ce l'ho per modo di dire con chi ha detto che era competitiva all'inizio e sapeva perfettamente di creare un gossip se gossip si può chiamare di una squadra che praticamente non sarebbe mai stata competitiva mai stata competitiva però c'era l'arma di dire ha fallito la Juventus e questo infatti mi sono battuta affinché la Juventus non andasse in bocca a queste persone a cui serve soltanto di dire una squadra ha fallito l'anatema di Conte però deve aver colpito la tema l'anatema di Conte che aveva detto che adesso è voluto la bicicletta adesso devi metterla è giusto è giusto allora perché sai potrebbero anche dire che ha sbagliato la campagna acquisti su questo penso che non ci siano dubbi perché se tu praticamente su quattro partite ne pareggi tre fai 0 a 0 eccetera e vai anche a Empoli a fare 0 a 0 laddove altri ci vincono scusa Claudio e non è un buon viatico scusami che c'è ma volevo dire telegraficamente quando Furio giustamente dice anche io ho avuto la stessa impressione cioè sia a fine partita poi mi sono risentito alla conferenza perché uno vuole capire come l'ha letta l'allenatore l'allenatore ha fatto la cronaca quello che abbiamo visto noi ma una spiegazione non l'ha data ma tu vuoi che è un allenatore io c'è un allenatore che si chiamava Nils Litom che perdevamo con la penultima in classifica che diceva oh ma guardate quella è penultima ma non deve mica stare lì che pensate che un allenatore possa dire la verità pubblichamente ma sulla partita lo Stoccarda non può essere diventato il Real Madrid ma lettura sulla partita che vuol dire lo Stoccarda ha avuto il controllo ma è la Juventus ma è la Juventus che non è la Juventus da competere lo Stoccarda è più forte della Juve sì ma come è più forte della Juve noi guardiamo il nome il nome praticamente va messo da parte alla luce di queste analisi che io condivido in buona parte ma comunque fa parte anche della libertà di pensiero degli opinionisti di questo tavolo che Inter e Juve ti aspetti perché se la Juve se sono vede buona parte di queste analisi e Domenico dovesse perdere con l'Inter poi comincia a diventare un piccolo problema ma infatti diventerà un piccolo diventerà un grande problema però non deve essere un grande problema per chi conosce praticamente la qualità della squadra la qualità della squadra è tale che praticamente in questo momento non può competere con l'Inter poiché la partita la vinca o la perde è un altro discorso nella sostanza non può competere con l'Inter e se vogliamo andare ad esaminare il discorso praticamente del campionato chi combatterà con l'Inter sapete chi è il mio è il Napoli e il resto praticamente non conta ma tu che Inter e Juve ti aspetti allora io mi aspetto probabilmente una partita dopo aver visto l'Inter e stasera scusa ma guarda che noi quando c'ero io perlomeno abbiamo sempre fatto buone partite a Milano col Mila e con l'Inter quindi ci sta pure che facciamo una partita discreta non certamente a livelli eccezionali sentire da Marianna la sua previsione no ma infatti mi ha anticipata perché io solo per dire appunto a livello da quello che abbiamo visto ieri sera e quello che abbiamo visto oggi io avrei detto Inter ma Inter perché alla fine vediamo la differenza nei tre di stasera che ha messo la Juve chi può mettere magari domenica per fare la differenza obiettivamente penso nessuno perché che 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 che